Quella ragazza spia quelle due ragazze e viene spiata da questa ragazza, dici una cosa del genere? Una catena di spionati E noi ne facciamo le foto alle mutandine a chi spia quella che viene spiata da quella che spia, giusto? Sembra uno scegli di lingua ma sì, è così Ok Penso che stia andando proprio in questo esatto modo Piano, piano, piano Sicuramente in questo momento si starà cambiando, quindi fai attenzione Sì, sì, adesso proprio mi sporgo leggermente, controllo E vediamo a che punto è Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferenica E io sono Steph e quest'oggi giocheremo a Yandere Simulator E siamo arrivati alla parte cruciale del nostro piano Perché mancano solamente due giorni alla fine della settimana Ok Quindi dovremmo attuare gli ultimi due step del nostro piano Che saranno i più complicati ma anche i più efficaci Che cosa hai in mente? Tante cose belle, tante cose bellissime Ho un po' di paura Infatti non vedo l'ora di dirti come sarà il nostro piano Ok, dimmi La quarta fase che andremo a fare oggi Sai cosa dovremmo fare? Cosa, cosa? Siccome avevamo già scoperto che Cocona ha contrabanda mutandine Io volevo cercare di rafforzare questa sua parte negativa Quindi oggi le ruberemo il cellulare Faremo delle foto sconce E la faremo incolpare per queste foto Non è bellissimo? Ma è cattivissima questa cosa Ma hai già pensato a tutto? Cioè perché bisogna rubare il telefono Fare delle foto E certo Farle ritrovare il telefono senza avere sospetti Ma cosa pensi? Che io sia una sprovveduta e che non pensi bene a tutte le cose? Ma è in pieno difficile Come hai fatto a pensarlo? Lo so, è difficile La seguiremo nei bagni Lei ovviamente non penso si farà la doccia col cellulare appresso Magari ha di quelli impermeabili Che non si bagnano Ti ho detto che non si fa la doccia col cellulare Vedi non hai pensato a tutto Se c'è questa invenienza il tuo piano non funziona Allora, già lì prima di entrare nelle terme Si fanno già una doccia prima di farci una seconda doccia Come tu ben sai Esatto, come io ben so Quindi cosa pretendi? Che ci mettano un cellulare dentro? Non le fanno queste cose Ok, ok, mi fido Comunque, quindi mentre lei si farà il bagno Noi le ruberemo il cellulare dall'armadietto Ok, fin qua ci sono Scatteremo le foto Guarda che stai iniziando ad andare La vedi? La vedi la colpevola? Mentre tu mi segui il piano io la seguo Alla pedino sono molto bravo Mi raccomando non farti notare Non ti emozionare Ok Fai le cose in modo serio E dopo che scatteremo queste foto sconce Tu direi come faremo Come faremo a farle riavere il telefono Esatto Perché ovviamente non se ne deve rendere conto Metteremo il telefono Prima delle 4 del pomeriggio Mi raccomando importante Ok Nel club di cucina di cui lei fa parte Ok così lei lo ritrova lì Pensa di averlo dimenticato il giorno prima Esatto E non si accorge di nulla Eccola che entra nella vasca Sta entrando nei bagni Bisogna fare silenzio silenzio Esatto Non far notare che ci sono dei passi dietro di lei Perché magari puoi iniziare a sospettare Esatto Devi fare piano 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 Sicuramente in questo momento si starà cambiando Quindi fai attenzione Sì sì adesso proprio mi sporgo leggermente Controllo E vediamo a che punto è Ok penso che sia già andato Sì è sicuramente nel bagno Se non la vediamo è sicuramente nel bagno Ecco il suo cellulare Ecco il telefono Prendilo Fai piano mi raccomando Fai finta di nulla Mi chiudo Chiudi Così non resta proprio sospetti in nessun modo E ce ne andiamo Ce ne andiamo Con calma Non dobbiamo panicare La prima parte è andata Io te l'ho detto che non era poi così difficile Ok Non è difficile mettersi contro Cocona Dai Non si accorge mai di nulla quindi Non saprei Non saprei Adesso dobbiamo riuscire a fare una foto Senza far accorgere nessuno Ho un'idea a chi farla Quindi dammi un attimino E andiamo Ok Devi fare molta attenzione Perché vedi che il tuo telefono è nero Mentre invece quello di Cocona Ha una cover molto sgargiante Quindi potrebbero anche accorgersi Che il cellulare è il suo Ok Devi fare molta attenzione Prendi questa ragazza Che tanto si interessava Guarda qua non si accorge mai di nulla Ne ne puoi fare tutti i colori Non si accorge mai di nulla Guarda possiamo prendere proprio la mira Tranquilli Guarda lei non se ne accorge È perché sta prendendo il sole nel terrazzo Proprio felice Lei pensa solo a prendere il sole Ma hai notato una cosa? Cioè aspetta Sì dimmi dimmi No ti devi alzare Devi smettere di far foto Ok Dovevi dire che ci sono delle ragazze che parlano E una che spia da dietro il muro Sì è inquietante Io non vorrei dire Ma non siamo gli unici inquietanti Nella scuola Cioè guardala Proprio senza pudore E questa che guarda E fa finta di nulla Quella con i capelli verdi Invece sta osservando Noi pensiamo che si stia prendendo il sole Invece prende appunti Sui comportamenti di quella ragazza Ne sono quasi sicura Quindi quella ragazza spia Quelle due ragazze E viene spiata da questa ragazza Dici una cosa del genere Una catena di spionati E noi ne metri facciamo le foto Le mutandine A chi spia Quella che viene spiata Da quelle che spia Giusto? Sembrano scegli lingua Ma sì è così Ok Penso che stia andando proprio In questo esatto modo Comunque facciamoci gli affari nostri Esatto A noi non interessano Gli affari loschi della scuola Ci interessa solo Far buttare fuori Cocona Abbiamo altri pensieri E adesso dobbiamo trovare Il club di cucina Assolutamente sì Ecco il club di cucina Ti devi muovere Perché il tempo Fino alle 4 E sono già alle 3 e mezza Ma è troppo carino Lo so è bellissimo Ma ci voglio andare anche io È troppo carino E tutta rosa Fa troppo ridere Perché Cocona Ora che ha finito Anche la seconda lezione Andrà sicuramente al club Ok E se non troverà il cellulare Nemmeno qua Sicuramente si insospettisce Capito? Ok ho capito Quindi ti devi muovere Guarda Allora lì ci sono Tre ragazze che mangiano Non farti Guarda vai in questo angolino Perché non ti vedono da qui Aspetta 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 che si stia da lei Fai sedere lei Fai sedere lei Ok noi facciamo finta Di esplorare il club Non ne arriva un'altra Guarda stanno controllando Costantemente Sono furbe Magari ci interessa entrare Stiamo dando un'occhiata Esatto Vogliamo vedere come si cucina Giusto ok 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 L'ho piazzato L'hai visto? E adesso dobbiamo aspettare Che torni Cocona E vedere se lo prende Guardala Guardala Ok 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 Vedi lei in questo momento Sta cercando il suo cellulare Ok però non dobbiamo guardarla Facciamo finta Che bel cassetto Uh guarda Ok Ecco il mio telefono Te l'ho detto che lei l'avrebbe cercato Anche all'interno di questo club Ha pensato come è finito qui Vedi che ne è rimasta stupita Si sta mettendo a cucinare Oh mio dio che buoni Però Oh mio dio A talento No ma non sono dei polpi Hai capito cosa sono? Sono dei mini wuster Cioè delle minime salsicciotte E li sta tagliando A forma di polpo Quasi mi dispiace Cocona Quasi mi dispiace Solo quasi E di nuovo La reputazione di Cocona Che scende Guarda come è proprio al limite Ah manca tanto così Manca un tanto così Un tanto così E avremo finalmente Il nostro piano riuscito Io spero che l'ultimo giorno Tu abbia pensato Al piano più cattivo di tutti E più bello in assoluto Perché bisogna Ovviamente Proprio finire con Il bacio Capito? Il bacio Non in bellezza Il bacio Il bacio Perché mi piace Fare così Capisci? Quinto e ultimo giorno Del nostro piano Dovresti essere emozionatissimo Perché oggi si saprà Se tutte le nostre fatiche Saranno premiate Sono felicissima Sono così emozionato Che non riesco a smettere di tremare Guarda Non riesco a fermarmi Che a tremare Bella potentissima Io sono davvero emozionata Perché qui si saprà Se abbiamo fatto tutto bene Questa parte è cattivissima Guarda Forse un po' mi dispiace Anche farle una cosa del genere No ormai Non ti devi più dispiacere Il danno è fatto Devi concludere Tutto questo Perché questa è proprio Una cosa davvero gravissima È che è inammissibile In ogni tipo di scuola Ok Perché Sì La faremo accusare Di aver rubato Le risposte corrette Dell'esame Aia Questo è brutto Questo Assolutamente È davvero brutto Prima cosa Dobbiamo rubare Le risposte corrette Dell'esame Ok Sempre senza farci notare Ovviamente Quindi è la prima cosa Che andremo a fare Ed eccoci qua Eccoci qua Perché sono in questa stanza Allora noi apriamo C'è qualcuno Vedi che qua ci sono tutti Gli esami Guarda Ma noi facciamo finta Che stiamo facendo Una per l'ustrazione Sì Tutto molto bello Poi mentre giri All'improvviso Tac Preso Ok Fatto Sì Sei pronto Sì Ora Ovviamente abbiamo bisogno Anche dell'aiuto di Infochan Perché faremo fare Le fotocopie a lei Perché lei è talmente brava Che ricreerà Una copia totalmente perfetta Ok Cioè che anche gli insegnanti Ci cascano Se la vedono Ok È un fenomeno Anche dell'informatica Infochan Lo sappiamo Cioè Davvero Ovviamente Rimetteremo a posto L'originale Perché non possono Sparire delle copie Degli esami Ok Altrimenti Cioè Chi incolpano Magari potrebbero incolpare Un altro studente Certo E metteremo la copia Che Infochan ci darà Nella borsa di Cocona Perché lei ovviamente Continua a lasciare la borsa In custodia È un piano perfetto Assolutamente sì Ecco Vai da lei Vai da lei Ok Quindi noi Guarda Guarda Non si fa neanche vedere Come sempre E adesso vedi Ci dà di nuovo l'originale Con la fotocopia Guarda com'è veloce Cioè Cosa che tu non riusciresti mai a fare Anche quando avevamo preso le sigarette Proprio Si è aperta subito la finestra E l'ha buttata subito giù Perché lei ha sempre tutto pronto Lei è la migliore di tutta la scuola Secondo me Io ne ho teoria Ok Ha i folletti come Babbo Natale Che l'aiutano a fare tutte le cose E lì li gestisce dentro quella stanza Al buio Capito Di nascosto Nessuno sa cosa può succedere in quella stanza Solo in Fochan Lo sa Quanto vorrei scoprirlo Quindi Andiamo subito a rimettere la copia originale a posto Perché nessuno se ne deve rendere conto Certo esatto Quindi noi la poggiamo qua Ok Tanto non c'è visto nessuno Non c'è nessuno in giro Ok Adesso dobbiamo andare Voglio indovinare io Dobbiamo andare in classe Aspettare che Kokona Si sposi dalla sua bellissima borsa E dobbiamo mettere le risposte nella sua borsa Assolutamente sì Oh yes Eccoci al momento cruciale Comunque guarda È sempre in coppia con Senpai Io non vorrei dire Ma è sempre in coppia con Senpai Non mi piace per niente sta Kokona Entrambi si sono allontanati C'è soltanto Questa volta non c'è neanche il Senpai a distrarre Vedi Non è bastato neanche quello Quindi non si permette più Non si permette più C'è soltanto la nostra insegnante Che ormai è d'accordo con noi Dice che è l'estantipatica Kokona Perché vuole rubare Senpai Eppure a lei Esatto Quindi il prossimo obiettivo Sarà l'insegnante Metti le risposte nella borsa Ok Ed è andata Ed è andata Dobbiamo andare nella nostra amica preside Dobbiamo dirlo Sì ormai guarda Ci adorerà Perché le stiamo salvando La reputazione della scuola Meglio di così Allora stiamo rovinando No siamo delle studentesse modello Dipende dai punti di vista Questa cosa Ed eccoci qua Guarda Guarda il momento cruciale Ce l'abbiamo fatta Gli sta chiedendo cosa Incrocia le dita Incrocia le dita Dimmi che ce l'abbiamo fatta Buttarla fuori dalla scuola Guarda come sempre Non riesce a inventarsi nulla Dice non so che cosa sia Aia Dice che Sei una bugiarda Kokona È colpa tua Lo sanno tutti Non può essere accettato Attenzione Attenzione Sì Vedi che è troppo in basso Ce l'abbiamo fatta È andata via Ok dice che non le può più dare Sì che non le darà più Una seconda chance Che sta distruggendo La reputazione della scuola E che è stata espulsa Permanentemente Dai 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 fammi una bella schermata In cui me la fai vedere tristissima Ti prego No please Don't do this Vuoi fare anche le sue voci È finita Io pensavo ci sarebbe stata Una bella schermata Di Kokona che piange No Ma va bene L'importante È che sappiamo Che è stata buttata fuori Beh ragazzi Il video è finito così Se vi è piaciuto Ascettate Dice un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao